in un modo un po' imprevisto questa richiesta che faceva Candelaria di condividere le storie per telefono eccetera nel mio caso si è concretizzata quasi da sola in una direzione strana che non avevo programmato e cioè condivido della poesia con un criterio non programmabile e cioè man mano che purtroppo vengono a mancare dei poeti e questa cosa non l'avevo pensata semplicemente mi ha colpito moltissimo primo marzo 2020 quindi inizio della nostra pandemia la scomparsa di questo poeta che adesso vorrei condividere con voi che è Ernesto Cardenal solo che non avevo libri suoi quindi ho dovuto un po' cercarmi in rete i suoi testi e me li sono un po' tradotti e questo è quello che vi leggo adesso è una mia traduzione sono sei testi brevissimi vengono da una raccolta che si chiama Epigrammas Epigrammi sono appunto queste poesie molto brevi già dal genere che però io ho messo assieme come se fossero un unico testo perché di fatto raccontano una storia sono molti di più io ne ho scelti sei per non annoiarvi al mio perdere te tu e io abbiamo perduto io perché tu sei stata quello che io ho più amato tu perché io ero quello che più ti ha amato ma di noi tu perdi più di me perché io potrò amare altre come ho amato te ma te non ti ameranno come io ti amavo voi fanciulle che leggerete un giorno questi versi emozionate sognando un poeta sappiate che io li ho fatti per una come voi e che fu in vano ecco la mia vendetta che ti giunga in mano un giorno il libro di un poeta famoso e che tu legga queste righe che l'autore scrisse per te e che tu non lo sappia mi hanno riferito che eri innamorata di un altro così sono andato nella mia camera e ho scritto un articolo contro il governo per cui sono in prigione non si possono ancora pubblicare le nostre poesie di mano in mano girano manoscritte o ricopiate al ciclostile però un giorno il nome del dittatore contro il quale furono scritte verrà dimenticato e ancora esse saranno lette uno si sveglia con le cannonate nella mattina piena di aeroplani parrebbe ci sia la rivoluzione e invece il compleanno del tiranno